qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, è giovedì e si parla di teatro. Buongiorno Tamara Malleo! Buongiorno Fabio, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora Tamara, come stai? Tutto bene, tutto bene, e voi? C'è una domanda di riserva per noi? Qua c'è un attimino di... Non mi pare per tutti la domanda di riserva. Qui c'è un po' di malessere generale, ma soprattutto di terrore e di paura. Nel senso che, in realtà, se abbiamo qualcosina, ma in realtà abbiamo paura di ammalarci, quindi ci guardiamo tutti guardinghi, ci isoliamo negli angoli della redazione, facciamo finta di non essere insieme. Non abbiamo neanche la possibilità di ammalarci ormai. No, infatti, infatti, non lo possiamo fare anche per chi ci ascolta, non possiamo lasciarli offri, soprattutto il giovedì, soprattutto con i consigli importantissimi e fondamentali che Tamara tu ci dai per far diventare il teatro un'abitudine. Dove ci porti quest'oggi? Oggi ho scelto tre teatri, due non ho molto parlato quasi mai, quindi li scopriamo. Allora, andiamo subito a Pacta dei Teatri, che si trova sulla linea verde fermata a Biategrasso-Chiesa Rossa, o si può raggiungere con il tram 15 e 3, quindi dal centro verso appunto la zona un po' più periferica, appunto a Biategrasso, in direzione a Biategrasso. Qua c'è Pacta dei Teatri che ha iniziato la sua stagione con uno spettacolo di una compagnia emergente, una compagnia composta da giovani drammaturghe e registe, la compagnia Landi-Migniemi-Paris, che è appunto composta adesso da le donne che hanno fatto e creato questo spettacolo, la drammaturgia di questo spettacolo di Francesca Migniemi, la regia di Virginia Landi, in scena ci sono Giorgia Yolanda Barsotti, Lenora Paris e Cristiana Tramparulo, e questo spettacolo si chiama Witches. Witches, appunto, come dice la parola stessa, si sviluppa sul tema della strega, come risultato di una campagna di criminalizzazione, della sessualizzazione del corpo femminile durante lo sviluppo e l'affermazione della società capitalista. Ci sono tre punti di vista, e questo l'ho trovato molto interessante, quello degli inquisitori, quello delle donne accusate di stregoneria, e quelle delle donne che abitano il presente, quindi che riflettono sui temi del presente. Le ragazze, le tre attrici che sono in scena, cantano, ballano, e quindi tutto dal vivo, cantano, ballano, e creano, suonano, peraltro suonano dei piccoli strumenti, e creano dei momenti rituali, in cui appunto questa idea di stregoneria, su cui ruota intorno allo spettacolo, si sviluppa poi su temi diversi, che può essere appunto la sessualizzazione del corpo, che può essere temi come l'aborto, come l'aggressione nei confronti del corpo femminile. Ci sono varie dinamiche che si sviluppano all'interno, e trovo che tutto il gruppo di lavoro abbia molto sviluppato un tema importante, che è quella della riflessione sul corpo femminile, sulla sessualizzazione, e sull'affermazione del corpo nel sistema capitalista, ribaltando però sempre lo sguardo, e quindi rimanendo mai fisso su uno sguardo unico, e questo secondo me è fondamentale per poter entrare dentro un tema, e sviscerarlo. Peraltro le tre attrici che sono in scena hanno tutti corpi diversi, questo per una rappresentazione del corpo che va al di là di quello che ci viene costantemente narrato, quindi anche un tema che può portare a criticare il sistema, se poi viene sviluppato da un corpo sempre comunque conforme, non ci permette di uscire dallo schema. Invece in questo caso, secondo me, c'è proprio un'analisi profonda anche nella scelta della rappresentazione in scena. Quindi, which is in scena da ieri fino a domenica, al teatro De Pacta, che si trova appunto ad Abbiategrasso, Chiesa Rossa, quindi facilmente raggiungibile con la Metro Verde, ma io ci sono arrivata anche in macchina, quindi il parcheggio è facilissimo. Ah, bene, bene, bene. Questo era nuovo di teatro, ma appunto non avevamo mai stati ancora. No, ne ho parlato forse una volta per una compagnia che steguola. Però insomma, non avevamo ancora. Comunque non è. Le nostre abitue, ok. Questa invece è la prima volta che parlo di un teatro, che è il teatro Martinit. Ah, tratto di Martinit, bellissimo. Esatto, che si trova invece in via Pitteri 58, quindi zona Alambrate, quindi si può raggiungere, sempre con la verde, oggi abbiamo la verde come riferimento, Alambrate o con la linea del tram 23 o con l'autobus 54, 39 e 75 che comunque partono sempre da Loreto o da Alambrate. Sì, sì, è tra l'Ortica e Alambrate, proprio lì in mezzo. Esatto, esatto, proprio esattamente tra Ortica e Alambrate. Esatto, e comunque anche là è molto facile il parcheggio, ve lo dico, perché ci sono andate e quindi è facilissimo anche il parcheggio. Rubattino per ricapirci. Esatto, e il Teatro Martinit anche loro aprono la stagione con questo spettacolo Una mamma di troppo di Valeria Cavalli che è una delle direttrici artistiche del teatro a MTM ma che è una drammaturga e quindi lavora come drammaturga. In scena ci sono Gianna Coletti, Monica Faggiani, di cui abbiamo spesso parlato e Arturo Di Tullio. È una commedia brillante, si racconta la storia di questa coppia, arriva questa donna che dice di essere la madre dell'uomo che arriva da questo passato e si racconta un po' la convivenza all'interno di questa casa che deve subire dei nuovi equilibri. È una commedia molto brillante, Valeria Cavalli scrive in maniera brillante e in scena ci sono appunto Monica Faggiani che si adatta a scritture diverse ma ha un tono sempre molto vivace, ironico, divertente in scena. Gianna Coletti ci ha raccontato spesso nei suoi spettacoli personali la malattia proprio attraverso una chiave ironica e in questo spettacolo appunto è una commedia leggera. Il Martinique si propone, propone al proprio pubblico una programmazione legata a temi molto leggeri che chiaramente toccano anche temi profondi ma sempre attraverso una leggerezza di fondo quindi sceglie la commedia come mezzo per poter arrivare al proprio pubblico e quindi la sua programmazione lo vedremo anche più avanti è comunque sempre legata al mondo della commedia del divertimento, della risata che coinvolge molto il pubblico proprio perché sceglie quella strada. Quindi Martinique, abbiamo detto zona tra Lambrate e Ortica. Proprio lì, proprio lì. Allora, dammi, rimani qui con noi un attimino perché c'è ancora una terza, giusto? Sono i tre teatri. Tu lo fai apposta prima perché io tre teatri non riesco a dirlo quindi i tre teatri il terzo lo ascoltiamo subito dopo un po' di musica perché andiamo con Mahmood con Ratatata e poi torniamo qui con Tatatata Maramalleo. Mahmood con Ratatata e come dicevo prima invece noi siamo con Tatatata Maramalleo che ci deve portare nella stessa cosa però vabbè no, anzi, ci porti nel terzo teatro invece quindi insomma Allora, al terzo teatro invece questa volta torniamo nei nostri luoghi diciamo usuali perché andiamo al teatro Elfo Puccini dove è in corso in questo momento lo sarà fino al 17 ottobre la rassegna Milano Oltre la danza al centro della narrazione e volevo segnalare questo evento particolare perché secondo me per chi la danza non la frequenta può essere un modo per entrare dentro il mondo della danza perché sabato 5 ottobre ci sarà una delle conferenze danzate in questo caso si parlerà di Cenerentro la più bella addormentata ed è un appuntamento che Milano Oltre attraverso Rino De Pace e Lorenzo Conti che sono i direttori artistici hanno voluto per poter avvicinare il pubblico al mondo della danza ed è un incontro un viaggio attraverso le diverse tecniche estetiche poetiche attraverso l'incontro con professionisti del settore che però parlano in maniera molto immediata quindi cercando proprio di far entrare il pubblico all'interno dei percorsi che loro da tecnici chiaramente fanno nel mondo della musica per poter trasmettere l'amore verso questo questo mondo della danza quindi attraverso il patrimonio storico e culturale della danza e giocando provando anche a interpretarlo la diciamo così condurrà guiderà questo viaggio a Francesca Pedroni e in questo caso appunto sono stati scelti Cenerentro e Bella Addormentata che sono due classici del balletto per appunto per immergerci nella relazione affascinante tra fiaba e repertorio classico accademico e poi le sue trasformazioni nel corso del tempo secondo me è un appuntamento importante perché il festival di Milano Oltre ci porta appunto nel mondo della danza internazionale oltre che nazionale perché ci porta veramente artisti da ogni parte del mondo sia per chi la danza appunto la frequenta tutto l'anno questa può essere una buona occasione per poter entrare nel mondo della danza e non sentirsi escluso perché a volte si dice ah io non so niente di danza eh sì siamo un po' in Italia il mondo del balletto e la danza invece in realtà non è così e appunto i due direttori artistici Rino De Pace e Lorenzo Conti stanno cercando da alcuni anni di superare questo concetto della danza che solo per alcuni solo per chi conosce l'arte della danza ma in realtà è per tutti basta soltanto avvicinarsi senza porsi dei limiti ecco in questo caso quindi sabato 5 teatro ai Fopuccini siamo in zona Corso Buenos Aires Metropolitana Rossa Porta Venezia o Lima quindi ci sono le due possibilità e l'altra possibilità invece che è quella di non perdere mai nessun appuntamento con Tamara come facciamo appunto per non perderci niente nuovo orario giusto teatro mani è un mio orario perché da domani dal prossimo venerdì quindi da domani andremo in onda dalle 15.30 alle 17 sempre su Milano canale 191 e poi replica il lunedì su Antenna 3 canale 11 a che ora la replica? alle 23.30 ok così sappiamo qui sappiamo tutto non sbagliamo Tamara grazie come sempre grazie a voi importantissimi appunto i tuoi i tuoi consigli la tua trasmissione è così bella che la mattina ci porta il sole anche in una giornata di pioggia tua e le tue collaboratrici oggi l'impresa è molto molto ardua devo dire adesso stiamo anche controllando tu fuori dalla finestra cosa vedi in questo momento? che zona sei più o meno? io sono in zona Porta Venezia vedo pioggia 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 qui è un disastro qua sta veramente venendo giù di tutto abbiamo guardato i livelli idrometrici dell'Ambro e del Seveso stanno impazzendo il pluvio cioè la quantità di millimetri d'acqua è scesa in tre ore è una roba assurda e quindi insomma stiamo cercando un po' preoccupati devo dire la verità sì perché poi qua la situazione è sempre un po' al limite quindi speriamo che insomma si fermi questa pioggia infatti dai Tamara grazie mille per tutti i tuoi consigli buona giornata buona settimana e buon lavoro grazie a tutte e a tutti voi anche a te e ci si vede quindi a teatro non prima però di aver ascoltato un'altra bellissima canzone storica che qui su Cristian Radio ascoltiamo spesso ma sono ben contento parlo degli America con Heroes with no name 8 e 27 good morning Milano grazie a tutti i